Hanno uno sfogo che è il lagnarsi di tutto, di qualunque cosa del governo, cioè hai sempre un qualcuno a cui dare la colpa al governo, ai medici, ai politici, agli illuminati, ai massoni, agli extraterrestri, a sto cacchio, alle scie chimiche, basta che non danno la colpa a te, basta che tu non dai la colpa a te e non dici questo sistema non cambia perché io, io, io Precious Blue, io Mauro Libertucci, io Lumi, io Mutandone, io non faccio un cazzo. Allora questa è la nostra bella Italia vista dall'alto, vedete che fra Napoli e Roma, bene o male a metà distanza, c'è un punto particolare dove io vado spesso, da cui è possibile osservare un altro punto bianco che vedete qui, che si trova a 59,3 chilometri circa. Andiamo nello specifico, questo è Zannone, questo è Ponza e questo è Palmarola che è l'oggetto delle nostre osservazioni. Vedete la città di Sperlonga è questa, il nostro punto di osservazioni si trova qui sul litorale e le coordinate, se volete andarle a beccare, zoomando ancora di più, sono queste, perché questo è il picco sud, esattamente dove vedete la fine della linea gialla, che corrisponde al picco massimo dell'altezza dell'isola, cioè i famosi 262 metri. A mezzo metro d'altezza, a 59.3 chilometri, io ho una curvatura di 252 metri. Prima osservazione fatta con il mio cellulare Huawei P30 Pro, 29 ottobre 2022 ore 17 e 59. Questo è Zannone, questo è Ponza e più a destra, adesso piano piano mentre scorro, qui c'è una barca a vela, picco sud e picco nord di Palmarola. Con un cellulare. E questo è il picco nord, 212 metri, ok? Com'è possibile? Com'è possibile che io qui dovrei vedere un cucuzzoletto e questo potrebbe pure essere? Ma questo? Questo è la prova che la curvatura geometrica che dovrebbe esserci su una sfera di 6371 chilometri, non c'è. Mi metto a 3 metri, voglio osservare il 58,2 del picco nord, l'orizzonte si è spostato a 6 chilometri, ma io ho una curvatura di 2,12, io il picco nord non lo devo vedere. Quindi calcoliamo la curvatura per il picco nord, anche a 3 metri di altezza, il picco nord è 0, 212, lo vedete? Solo l'orizzonte si è spostato a 6 chilometri. A questo punto parto e mettimi a tutto schermo così almeno... Si rimane così Mauro, rimane così. Ok, sta già a tutto schermo. Questo, io sto a 3 metri, vedete che sto su una piattaforma che sta proprio sulla cima degli ombrelloni, esattamente davanti al punto di osservazione che è qui, nello stesso punto identico, prendo e incomincio a osservare Nikon P1000 con filtro 950 e guardate quello che vedo. 22 agosto 2023, quindi avevamo detto osservazione a un altidio di 3 metri, filtro IRCAT 950, guardate che cosa vedo. Comincio a zoomare, metto a fuoco, guardate Zannone, non è più un'ombra anche perché non sono più al tramonto, ma è un'isola vera e propria, con tanto di montagne, alberi, depressioni, spacchi, crepacci, guardate che roba. Spettacolare, non ci interessa per le nostre osservazioni, ma siamo passati dal citofono a qualcosa di professionale. Guardate come si vede bene anche il doppio promontorio fatto dall'isola di Zannone che sembra fatto da un'unica cosa e invece ha due picchi. Questa è l'isola di Ponza che si vede in tutta la sua lunghezza, guardate che meraviglia, con tanto di quella specie di isolotto che c'è lì che parte dell'isola di Ponza. Mi sposto come al solito sulla destra e meraviglia delle meraviglie, quel puntino microscopico, guardate che cosa è diventato, questo è il picco sud, spettacolare, e questo è il picco nord, 58.2 altezza, 212 metri, guardate c'è pure un uccello sulla destra, totalmente visibile per almeno vedremo adesso quanto, ma è più della metà dell'isola. Guardate che spettacolo. E questo non è roba da poco, soprattutto perché è fatto in una giornata di visibilità assolutamente normale, sono le 10 del mattino, alle 9.50, io il sole è alle spalle, quindi non ho più il sole dietro, perché tramonta dietro le isole il sole, tramonta ovest, giustamente l'isola si estende nord. Guardate il picco nord, non solo, si vede anche il resto del picco, perché il picco ha tutta una scoscesa sulla destra, adesso dopo vi faccio vedere meglio le foto, ma è spettacolare. A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu. Sempre a disposizione, in bianco e nero, il libro Il Risveglio, a colori solo nella versione ebook.